In questo film in Agab sono Mazinga, il soprannome è già, credo, abbastanza lunga e sono il più anziano, tra virgolette, ci tengo a dirlo, diciamo sono 20 anni che faccio questo lavoro, forse 25, insomma un po' stanco forse di questa fatica fisica, di questi scontri. Lo sai che ti dico? Io mi sono stufato dal ministro, da mio figlio, da questo mestiere, da questa cassa alla gamba che non ritorna a posto. Il dottore mi ha detto che devo soppicare tutta la vita. Mazinga è un caposquadra, quindi sicuramente è un uomo adulto, ha compiuto una sua parabola, la sua educazione alla violenza e alla strada ha raggiunto il culmine, anzi diciamo che sta in fase discendente, e quindi chi è meglio di Giallini per interpretarlo, col suo cinismo romano disincantato. Io tiro giù tutto, andiamo un po'. Io tiro giù tutto, andiamo un po' stanco.